Con 11 incidenti nel 2016 e un'incidenza di 1,7 schianti ogni 100 abitanti, è griante il paese della provincia di Como con il più alto tasso di sinistri. È quanto emerge dalla ricerca pubblicata sul sito del quotidiano Il Sole 24 Ore elaborata dall'Istat su base comunale su richiesta di infodata. Al termine dell'analisi è stata redatta una mappa, i cui comuni sono rappresentati da un colore che va dall'azzurro all'arancione scuro. Con quest'ultimo colore si identifica il paese con un tasso di incidenti sopra la media nazionale, media che è pari a 0,299 constatazioni amichevoli ogni 100 residenti. In provincia di Como c'è un solo comune colorato di arancione scuro ed è appunto griante, poco più di 630 anime, 11 incidenti in tutto l'anno, praticamente uno al mese. Seguono Geralario, stesso numero di schianti con tasso di 1,07 sinistri ogni 100 abitanti e poi Argegno. Probabilmente la trafficatissima statale regina incide su questi dati. Il comune capoluogo Como ha totalizzato in tutto il 2016 406 sinistri, ma il tasso si abbassa a 0,48 incidenti ogni 100 abitanti. 155 le constatazioni amichevoli a Cantù, ma il tasso è fermo a 0,38. Erba addirittura colorata di azzurro con 25 sinistri in tutto l'anno scorso.